Radio Maria, una voce cristiana nella tua casa. Cari ascoltatori di Radio Maria, benvenuti a questa mostra di Radio Maria. Mostra di Radio Maria che incomincia a Milano, ma poi si diffonderà un po' in tutta Italia come mostro itinerante e che riguarda la storia di Radio Maria. Una storia che è molto lunga, non molto tempo fa abbiamo celebrato i trent'anni della storia di Radio Maria, abbiamo anche incoronato la Madonna con una colonna d'oro per questa occasione. È una storia che abbiamo scritto in parecchi, diciamo migliaia e migliaia di persone, un popolo intero. Molti di questi saranno già in paradiso, che ci guardano e pregano per noi. Molti sono ancora ascoltatori nei primi tempi e si ricordano come abbiamo vissuto con entusiasmo, prima la diffusione in Italia e poi la diffusione nel mondo, nei cinque continenti. Successivamente è venuta anche la famiglia mondiale di Radio Maria che è stata promossa da noi come strumento per fondare nuove radio, come strumento per unirci tutti insieme, come strumento per affatellarci fra figli di Maria di diverse nazioni. Però molti non conoscono questa storia e quindi come i figli più giovani desiderano conoscere un po' la storia dei loro nonni, dei loro genitori e penso che anche voi vogliate conoscere ascoltatori di nuova generazione. Questo è lo scopo di questa mostra, che con vari pannelli racconta la storia di Radio Maria, una storia di cui noi siamo soltanto gli strumenti umani, ma la regia è tutta dalla Madonna, cioè l'amore per la Madonna prima di tutto è la forza, la forza propulsiva di Radio Maria nel mondo, è l'amore per la Madonna, la quale ha trovato in noi degli apostoli generosi che ha portato amante questo progetto con i loro sacrifici, con il loro entusiasmo, però c'è anche stato un aiuto del cielo. Questa storia è piena di miracoli. Potete anche leggere il libro che abbiamo scritto sulla storia di Radio Maria per conoscere i particolari, ma vi assicuro che noi che l'abbiamo vissuta dall'interno sappiamo come la Madonna è intervenuta in un modo meraviglioso per realizzare questo progetto. È un progetto che continua, che si diffonde. Questa Radio un dono di Maria è uno strumento che serve alla Madonna per realizzare i suoi piani. Quali sono i suoi piani? Il trionfo del suo cuore immacolato è quello di suo figlio Gesù e questo sicuramente è il nostro orgoglio, santo orgoglio, di poter cooperare a questo grande progetto. Visitate la mostra e in questo modo diventate anche voi, diciamo così, conosciate anche voi le radici di questo meraviglioso albero di senapa che ormai è diventato un altro gigante nel giardino della Chiesa. Vieni a visitare Radio Maria Ogni giorno apriamo le porte della nostra sede a voi ascoltatori che siete il cuore di questa grande famiglia formata da persone piene di entusiasmo che vi mostreranno il nostro Dietro le Quinte. Potrete visitare l'Ufficio Informazioni animato dai nostri volontari. Potrete soffermarvi per esfoliare il giornalino informativo di Radio Maria, le nostre pubblicazioni, i libri di Padre Livio, troverete i DVD della Catechesi giovanile, Corone delle Santo Rosario, le nostre radioline e tanto altro ancora. Chi lo desidera può visitare l'accogliente Cattella di Radio Maria e sostare il raccoglimento nel massimo silenzio. Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, mentre il sabato dalle ore 9 alle 11 e 30. Venite e conoscerete da vicino Radio Maria. I've got my memories Always inside of me But I can't go back Grazie Grazie että Grazie 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 a tutti.